Sono qui per parlare di un argomento che potrebbe cambiare la vita di molti di voi, il business. Ma aspetta un attimo, non sto per fare uno di quei discorsi cliché sull'imprenditorialità. Voglio davvero aiutarvi a capire come il business può risolvere i vostri problemi più grandi. Scommetto che molti di voi si trovano a combattere con le stesse sfide ogni giorno. Vi sentite bloccati in lavori che non vi appassionano. Vi manca il tempo per dedicarvi alle cose che amate veramente o forse state solo cercando un modo per aumentare il vostro reddito. Ecco perché il business potrebbe essere la chiave per superare queste difficoltà. Immaginate per un attimo di essere i padroni della vostra vita, di poter scegliere come passare il vostro tempo e di avere il controllo sulla vostra carriera. Questo è ciò che il business può offrire. Non sto parlando di fare soldi velocemente o di promesse vuote, ma di costruire una base solida per il vostro futuro. Ecco come il nostro modello di business può aiutarvi con i vostri problemi più grandi. Innanzitutto vi dà la libertà di fare ciò che amate. Immaginate di poter lavorare su progetti che vi appassionano davvero, di poter perseguire le vostre passioni e di sentire che il vostro lavoro ha un significato. In secondo luogo, il nostro business può darvi il controllo del vostro tempo. Non dovete più dipendere da orari rigidi o da capi che decidono come dovete passare le vostre giornate. Potete organizzare il vostro tempo in base alle vostre esigenze, trascorrere più momenti con la famiglia e gli amici e persino trovare il tempo per dedicarvi a voi stessi. Infine, il nostro business è davvero un'opportunità per aumentare il vostro reddito. Non sto dicendo che diventerete milionari in una settimana, ma avrete la possibilità di creare fonti di reddito supplementari e di lavorare verso una maggiore stabilità finanziaria. So che tutto questo suona come una grande promessa, ma è possibile. Non sto cercando di vendervi niente qui. Voglio solo condividere con voi le opportunità che il nostro business può offrire e farvi riflettere sul fatto che c'è un'altra strada. Una strada che potrebbe risolvere i vostri problemi più grandi. Quindi, se state cercando un cambiamento, se siete stanchi di lottare con gli stessi problemi ogni giorno, date un'occhiata al nostro modello di business. Non sarà facile, richiederà impegno e dedizione, ma potrebbe essere la mola che spinge la vostra vita nella direzione che desiderate. E se volete ulteriori suggerimenti e strategie, seguitemi e condividete questo video con i vostri amici. Insieme possiamo superare i nostri problemi più grandi e raggiungere il successo.